Benvenuti alla presentazione del corso di laurea in sociologia e criminologia. Il nostro corso di studi è un corso di studi sociologico incentrato sulle scienze sociali e indirizzato in particolare alla conoscenza dei fenomeni della devianza e della criminalità. Come studiosi di scienze sociali ci occupiamo di tutti gli ambiti della società e inquadrando i problemi della criminalità e della devianza all'interno della prospettiva complessiva del sviluppo della società contemporanea e tenendo particolarmente presente tutti i fenomeni sociali più attuali dalla finanziarizzazione dell'economia alla globalizzazione del mercato del lavoro alla globalizzazione finanziaria che produce i fenomeni dei big data e così via. I nostri studi li diversiamo nell'attività didattica e ciò che raccaratterizza la nostra attività è in primo luogo il clima di collaborazione piena fra docenti e studenti. Collaborazione che coltiviamo nel nostro corso di studio tenendo presente l'idea originaria di università. L'università nasce alla fine del Medioevo come creazione culturale dall'associazione appunto di docenti e studenti che insieme vogliono coltivare la scienza. Naturalmente docenti e discenti hanno ruoli ben diversi nella università ma l'università è per noi qualcosa che si fa e si deve fare insieme. Non dimentichiamo d'altra parte anche l'altro aspetto che caratterizza l'università almeno dalla fine del Settecento. Grazie alla cultura dell'illuminismo si è affermata l'idea di una università che deve essere università pubblica, servizio pubblico volto alla formazione del cittadino, non solo dunque alla promozione della scienza ma appunto alla formazione di cittadini coscienti. La formazione di un cittadino cosciente, di una coscienza critica, è dunque obiettivo prioritario dei nostri corsi di studio, obiettivo che noi riteniamo si possa ottenere pienamente grazie a quella perfetta collaborazione fra docenti e discenti che è alla base dell'idea stessa, come dicevamo, della università.